C'è da garantire la sicurezza di chi lavora, la sicurezza di chi transita sia in macchina che a piedi. Quindi ovviamente l'omplessità c'è, dei piccoli disagi sicuramente ci saranno, bisogna cercare di minimizzarli. Quindi l'invito che io ho rivolto a tutti è di cercare di essere veloci, di lavorare in sicurezza, ma velocemente anche su più turni di lavoro in modo tale da cercare di ridurre questi tempi dell'ordinanza che è un mese. Erano stati i commercianti della zona a chiedere a gran voce di accorciare i tempi dei lavori per limitare le difficoltà. Questa mattina un sopralluogo per via Fiorentina e la sua nuova viabilità, che ha comportato anche lo slittamento dell'avvio dei lavori previsto inizialmente per ieri. Abbiamo fatto un sopralluogo con tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro, alla presenza anche del comandante della Polizia Municipale e del vicecomandante, che ringrazio per la loro presenza, per valutare se potevamo in qualche modo intraprendere delle soluzioni per minimizzare ovviamente l'impatto della cantierizzazione sulla via e quindi sull'attività che gli insistono. Quindi c'è stata un'apertura da parte ovviamente dei vari soggetti responsabili e di valutare se, diciamo, organizzare cantieri su fasi, perché ci sono più fasi lavorative e quindi in determinate fasi, la fase anche iniziale, di lasciare comunque aperta una corsia di via Fiorentina in uscita, mentre la corsia in ingresso verrà ovviamente chiusa per cantierare, perché c'è necessità appunto di stoccare materiali, mezzi e così via. Quindi questo è un risultato, credo sia un risultato importante, perché un po' va incontro anche alle richieste dell'associazione. Sarà una chiusura in entrata già da domani? Ma credo di sì, quello che mi hanno prospettato è questa successione temporale. Si tratta dell'ultimo intervento per la sistemazione dei sottoservizi per la realizzazione della rotatoria. La parte conclusiva dei cosiddetti lavori propedeutici, perché è lo spostamento di secondo collettore fognario, cioè la lavorazione che viene fatta in questo mese sarà la connessione tra il vecchio collettore e il nuovo collettore. Il nuovo collettore ci consente poi di poter proseguire per fare l'opera vera e propria, che è il sottopasso sostanzialmente. Quindi finita quest'opera qui, io mi auguro che mi dicano i tecnici che i progetti sono tutti pronti, rivisti, rivisionati, quindi c'è tutto e quindi finita questa fase si possa davvero, spero, di iniziare con i lavori veri e propri.